Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo video contest ragazzi Un nuovo video contest in questo caso di GTA Andrò a regalare un account moddato per PS3 Per PS3 perché al momento mi sento di fare così Ci saranno anche per PS4 ragazzi quindi state tranquilli Che prossimamente ci saranno anche account moddati per PS4 Con molta certezza Sto solamente aspettando di vedere quanto tempo reggano questi account Perché come sapete ci sono stati dei ban Quindi non vorrei regalare un account moddato che magari poi viene bannato Quindi ragazzi per il momento è così Ora diciamo vado a regalare solo questo account moddato di PS3 Anzi non è un moddato Ragazzi è super moddato perché comunque ha il nore coil tutto sbloccato Diciamo ha la corsa moddata, capriole Un sacco di soldi ragazzi Quindi ci sono parecchie cosine in questo account Ci sono anche i completi moddati Quindi chi vincerà questo account sarà Penso che sarà molto contento insomma E nulla ragazzi I requisiti per partecipare a questo contest Li conoscete tutti Oramai chi mi segue sul canale lo sa Dovete avere il canale pubblico In maniera tale che io possa verificare Le vostre iscrizioni Le vostre condivisioni Insomma se avete lasciato un like A questo video E tutto il resto ragazzi Quindi ricapitolando Per vincere questo account Dovete essere iscritti al canale E avere le iscrizioni pubbliche Lasciare un like con scritto partecipo sotto questo video E continuare a seguirmi sul canale Perché io estrarrò il vincitore nell'arco Dei prossimi 6-7 giorni Insomma come è mio solito fare Lascio il tempo a tutti di poter partecipare a questo contest Quindi ragazzi Partecipate E condividete il video E restate connessi sul canale Spuntate la campanellina Quindi Se spuntate la campanellina Saprete in tempo reale Almeno tempo reale per youtube Però comunque Se qualcuno mi segue su telegram Io lo pubblicherò abbastanza In tempo reale Quindi Aggiungetemi anche su telegram Su facebook Dove cazzo vi pare a voi Detto questo ragazzi Mi raccomando Partecipate E buona fortuna Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Grazie a tutti.